Do subito il benvenuto a Gianluca Codognone, Managing Director, Best Inver Securities Italia, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Allora, innanzitutto partiamo dalla reazione delle borse a tutto ciò che accade in Ocrina, vediamo, almeno secondo quello che riporta la stampa, che comunque è stata una notte di bombe a Kiev, nonostante le promesse della Russia di una de-escalation, almeno dopo le trattative di ieri, e c'è stato un tono di ottimismo anche sulle borse a causa delle speranze di pace, nel breve termine o almeno di un trattato di pace nelle prossime settimane tra la Russia e l'Ucraina. Come bisogna interpretare la reazione di oggi che è decisamente sotto tono? No, ma io penso che oggi la reazione sia più ai dati di inflazione sia spagnoli che tedeschi che stanno uscendo, quindi credo che la Spagna ha l'inflazione di marzo che è praticamente al 10, 9,8. Stanno uscendo i dati della Germania, mano a mano dei vari lander, siamo sopra il 7,5, diciamo così a occhio, perché non sono usciti tutti, insomma intorno al 7,5. E quindi io credo che il mercato in questo momento è più focchio sull'inflazione e su quello che sta dicendo la Lagar mentre stiamo parlando io e te. Ecco, abbiamo visto l'inflazione in effetti alle 9 della Spagna, al 9,8%, ma anche l'inflazione su base mensile che continua a crescere, questa è la headline non armonizzata al 3%. È un po' inquietante questo dato mensile o meno? Che ti devo dire? Inquietante perché non se lo aspettava. Perché è abbondantemente sopra le attese. Sì, come ben noto noi aspettavamo già questo tipo di andamento dell'inflazione europea e diciamo che dopo avere un po' cambiato la postura perché il mercato era sceso del 20 e adesso siamo di nuovo neutrali o negativi perché ovviamente dopo il rimbalzo che c'è stato abbiamo sempre considerato la guerra come un po' noise sul mercato finanziario. Adesso invece i mercati stanno riprendendo a apprezzare le cose che succedono al di là della guerra, intendo, e quindi si devono mettere a discutere con l'andamento inflazionistico che è stato ignorato dalle banche centrali per primo per mesi, però adesso non si può più evitare, mi pare. In effetti sembra proprio così, poi vedremo un bel po' di dati macro alle 11 anche dell'Eurozone, intanto volevo capire qual è il tuo parere su ciò che accade sul comparto obbligazionario negli Stati Uniti, vi faccio vedere rapidamente la situazione in real time, questo è il biennale al 2,31, il decennale al 2,36, effettivamente la differenza è pochissima in questo istante in termini di rendimenti, però ieri c'è stata l'inversione per un brevissimo periodo di tempo eppure diciamoci ha scatenato tantissime reazioni sul mercato e non solo anche sui social media se vogliamo dirla. Qual è la tua interpretazione? C'è da preoccuparsi o magari c'è un'altra spiegazione? Allora, di solito quando le curve invertono segnalano recessione, c'è da dire che non è sempre così, però io non necessariamente penso che ci sarà recessione o straflazione, io penso che ancora adesso anche quello che prezzano sia le curve dei bond che l'equity market non sia giusto, nel senso che anche tutti gli aumenti di tassi che sono prezzati dalla curva forward americana non sono riflessi nei prezzi delle obbligazioni e neanche in quelli delle azioni, quindi credo che, vabbè, l'inversione ovviamente o il flattening dalla curva, diciamo, misura una stance della Fed più aggressiva, non sono sicuro che però i livelli che stiamo vedendo siano giusti, io penso che vadano ancora più di su. Tu dici in questo momento? Sì, cioè non sono sicuro che i livelli dei tassi che vediamo, il 2-3 del 2 anni e il 2-3 del 10 anni, siano giusti, credo che saliranno di più. Ok, per quanto concerne invece, ecco, le priorità della Fed, lo ha detto in più che Zioni Powell, ha detto che la priorità per il 2022 della Banca Centrale americana è calmerare i prezzi, mi sembra evidente che sono ben dietro la curva, si può riparare quali sono i rischi poi di una politica sui tassi troppo aggressiva e cioè magari se i rialzi da 50 punti base invece di 25 punti base, poi non si sa mai cosa accadrà nel corso del tempo, come reagiranno e così, ma quali sono i rischi concreti da una politica più aggressiva del previsto? Sono i rischi che se non la fai ti trovi un'erosione dei redditi reali, o di erosione dei redditi reali o di concatenarsi di inflazione, wage inflation, e quindi una spirale inflazionistica tipica che distrugge l'economia, quindi il problema non è che i rischi ci sono nell'alzare i tassi, il problema è che i rischi ci sono se non lo fai e che sono quelli di debasare tutto e quindi è ovvio che ci sono ficcati come avevamo già detto più volte in un brutto vicolo, però questo è, nel senso hanno fatto finta a tutti che l'inflazione fosse temporanea, non so se ti ricordi il famoso team temporary, e chiunque guardava le cose come le guardiamo noi dal basso, cioè dalle aziende, si rendeva conto che quello che dicevano le banche centrali era semplicemente falso, perché non c'era nessuna possibilità che le tensioni inflazionistiche se ne andassero via così e adesso non è un problema e qualsiasi cosa ci facciano, ormai il dentifricio è uscito dal tubetto, nel senso l'inflazione è venuta fuori e quindi bisogna reagire. Se dovessimo fare un paragoni con la situazione della Fed che è in forte difficoltà, lo hai detto anche in questo momento, bisogna reagire senza altro. Sì ma guarda scusami, ma lì si vede peggio. No, infatti perché stavo vedendo le dichiarazioni di Philip Lane che ha parlato proprio oggi, che stavo dicendo che è impossibile fare alcun tipo di previsione sui tassi, ma se non ci fosse con una reazione sui tassi e la bici entro fin anno. Scusami, ma non capisco, quindi cosa facciamo? Aspettiamo, sembra un po' le polemiche sul Covid, no? Aspettiamo i dati, se aspetti i dati poi ho capito. Però di solito non funziona così. Cioè questi signori sono stati per anni a spiegarci la guidance, la forward guidance, quindi il valore di dire o fare delle cose prima per guidare le aspettative. Adesso no, basta, finito questa roba qua, non vale più. Ecco, quindi diciamo se non ci dovesse essere una reazione, quei numeri che stiamo vedendo in Spagna, magari i numeri che abbiamo visto in Italia vicinissimi al 6%, potrebbero essere ancora più elevati, specie in concomitanza con il conflitto in Ucraina che non è per niente terminato. Sì, allora io non so se si può andare molto oltre questi livelli, del 10, eccetera, si può se cominciamo a vedere delle dinamiche salariali di un certo tipo, no? Cioè nel senso, se si cominciano a agganciare i salari a questo tipo di inflazione qui, allora sì. Però se no, no. Il problema è che se, mentre in America tu fino adesso hai avuto un andamento inflazionistico di un certo tipo e dei salari reali che sono un po' al di sotto dell'inflazione, ma non molto al di sotto dell'inflazione, cioè c'è un differenziale di un paio di punti, in Europa o riscende l'inflazione e anche rapidamente, ma non vedo come possa succedere onestamente, oppure salgono i salari, oppure scende il potere d'acquisto perché i salari reali vanno giù. Quindi è questo un po' il problema che abbiamo, no? Quindi è per questo che secondo me lo scenario recessivo è più probabile in Europa che negli Stati Uniti, che ovviamente da tutta la situazione ucraina risentono meno, perché il gas hanno loro che ha dei prezzi completamente diversi, hanno un'economia interna che è molto meno affected dalle nostre, da quello che sta succedendo qui. D'altronde l'Ucraina è in Europa e quindi era anche abbastanza naturale che geograficamente colpisce più noi. Per cui quello che voglio dire è, io non so le banche centrali cosa avevano in testa, però avevano in testa delle robe sbagliate e si vedeva da mesi questa cosa, almeno da ottobre. Non so che dirti Alessandro. Quindi giusto per capirci avranno un modo di ripristinare la loro credibilità, perché dal punto di vista mercati la credibilità è vicina a zero, sia BCE che Fed, almeno a questo punto poi magari gli economisti continuano a sostenere tutto ciò che hanno fatto i banchieri centrali perché dicono, vabbè, ovvio che nessuno si aspettava la guerra in Ucraina, ovvio che nessuno si aspettava il collo di Littilia. Ma scusami, però beati loro gli economisti, perché scusami, ma questa roba qua dell'inflazione parte da molto prima, cioè ne abbiamo parlato anche io e te qua, ma molto prima. Eh però loro dicevano che c'è sempre stata una componente di transitorietà. Capisco. Eh bisogna mettersi un po' d'accordo su che cosa sia la transitorietà, nel senso che anche l'orario shock è stato transitorio, però è durato dieci anni, quindi bisogna un po' vedere che cosa... Io dico una cosa, se certi andiamenti non li fermi, non se ne vanno da soli. Dopo quello che è successo col Covid, cioè quando tu vedi una persona come la Lagarde vuol dire che il cambiamento... tutte le cose che faremo per fermare il cambiamento climatico, no? Quindi la decarbonizzazione è deflazionistica? Cioè tu ti chiedi veramente se ti stiano prendendo in giro, perché è un bene che lo facciamo, ma che sia deflazionistica no, perché costerà di più fare le cose, ma meno ma, ma va bene, è un prezzo che paghiamo volentieri, ma dire delle cose che sono contro il senso comune è come dire che non esiste la forza di gravità. Allora questa narrativa che hanno avuto le banche centrali e anche alcuni economisti, uno la può anche dire, peccato che poi arriva la realtà. Ecco, in ottica di ciò che ci siamo detti tu hai esposto due scenari, o l'inflazione scende, scende velocemente o naturalmente senza fare, faccio la premessa, senza fare cupulisti, però le persone andranno a chiedere dei stipendi più alti, ma mi sembra anche abbastanza naturale, perché la nostra vita è cambiata da un anno e mezzo da queste parti in termini di prezzi, specie a Milano se vogliamo citarla. Detto ciò, quindi visto che questi sono i due scenari, cosa significa per i mercati? Cioè a me pare che nulla di buono sta per arrivare. Significa che per quanto riguarda le aziende, ci saranno delle aziende che, e quindi delle azioni, insomma, poi dipende lì il problema tra aziende e azioni, c'è una differenza che sono le valutazioni, cioè cosa il mercato prezzano, ma diciamo ci saranno delle aziende che avranno pricing power, in dei settori dove ci sarà pricing power, dove potranno ribaltare sui consumatori, l'inflazione dei costi di produzione e ci saranno delle aziende che non ce l'avranno. E lì dipenderà un po', lì diciamo, conterà molto lo stock picking, per fortuna, perché altrimenti io non saprei cosa fare. Questa frase era bellissima. Perché sennò noi dovremmo chiudere qua. Quindi per fortuna, per noi, diciamo sarà molto più importante cercare di capire quali sono i business che possono resistere in un ambiente inflazionistico. Allora, volevo semplicemente porre il focus anche alla guerra. In Ucraina c'è stato un bel po' di ottimismo nella giornata di ieri post negoziati in Turchia e c'è una minima almeno possibilità di trattato di pace nel breve termine, però ovviamente gli Stati Uniti e la Casa Bianca rimane molto scettica e poi abbiamo visto che i bombardimenti continuano. Ecco, tu sei ottimista o meno? Perché poi magari la Russia o i pischi per russi in questo caso dicono una cosa, poi però solo poche ore dopo succede una cosa completamente diversa. C'è una forte discrepanza tra ciò che dicono e ciò che fanno. Guarda, non so, anche io come te guardo quello che succede. Posso solo augurarmi che finisca in fretta, come avevamo già detto anche l'ultima volta, perché lavorare con un dramma umanitario di questo tipo perde molto senso, molto onestamente, però non ho veramente idea di cosa possa succedere. Dico che da un punto di vista economico, e questo lo posso dire, anche i russi, Putin avrà delle pressioni interne perché le sanzioni alle quali è stata sottoposto all'economia russa, sono pesanti e cominceranno ad avere un prezzo. Non dico nella Russia rurale, perché magari lì le cose non cambiano più di tanto, ma sicuramente nelle città russe ci sarà un percepibile decremento dello standard di vita. Per cui io credo che questa situazione, quello che dico è che questa situazione della guerra in Ucraina, le sanzioni della Russia eccetera, non è un equilibrio, quindi non può durare. Da che parte si trova il nuovo equilibrio è difficile per me da dirlo, però così non è un equilibrio e quindi ci si deve muovere da qua per forza. Credo che non durerà per molto per le cose che ho appena detto, perché sia per l'Ucraina che per la Russia sono condizioni, soprattutto per l'Ucraina, ma anche per la Russia cominceranno a diventare condizioni improbe e quindi spero e credo che finisca in fretta. Ecco, tra i vari scenari che immagino avete immaginato voi, quale diciamo lo scenario peggiore, anche se vogliamo dire per le relazioni tra l'Italia in questo caso e la Russia, perché sappiamo che avevano… Il scenario peggiore è che rimanga di Putin. Però ti sembra plausibile che Putin non rimanesse? Non so che dire, spererei di no che non rimanga, ma finché rimane lì, diciamo lo scenario… Cioè le sanzioni non se ne vanno finché non se ne va lui e non si vede chi viene al posto suo. Quindi che faccia più o meno potrebbe avere una nuova normalità? C'è una faccia senza Putin? Diciamo così che quello che stanno facendo tutte le… Allora, la centralità della Russia, come sappiamo tutti, è perché la Russia esporta in Europa circa il 40% del fabbisogno del gas europeo, come abbiamo visto in questi giorni tutti i paesi stanno cercando di approntare dei piani per ridurre la dipendenza del gas russo, che secondo me non possono durare meno di 3 o 4 anni, perché prima parlare di uscirne prima è… se ci si riesce, ma diciamo parlare di uscirne di uscire prima è tecnicamente impossibile. Quindi io credo che le relazioni si dovranno normalizzare, ma lo stato di prima, status quo ante, finché Putin è lì non credo che ci torniamo. Poi dirti come, in che modo, non lo so, però faccio fatica a pensare al bordo di una società che manda allegramente il suo amministratore delegato a fare un accordo con una qualsiasi società russa finché il signor Putin sta in Russia. Ecco, volevo semplicemente capire, dopo quello che ci hai appena detto, qual è lo scenario per le banche italiane. Chiedo banche italiane perché sono quelle più colpite… Ah, tu dici in Russia? Sì, no, dico le banche italiane che sono esposte, più esposte in Russia, per esempio Unicredit e Intesa San Paolo sono state proprio le due più colpite in termini di performance in borsa. Penso che usciranno e ci metteranno il tempo che ci vorrà. Ok, questo è l'unico scenario possibile per loro due. Secondo me sì. Ok, ok, grazie mille Gianluca Codagnone, Managing Director, Best Inver Securities Italia, a una prossima occasione e spero che ci vediamo presto in diretta. Grazie e buon lavoro. Ciao, ciao.